Dentro ono i Bugeia per il Sassuolo Pallo di Polli che si sta anche innervosendo Calcio di punizione Bugeia, prova a strappare, Bugeia è passata, Bugeia dribbling all'interno Capelletti è fondamentale Bugeia poi scintille con Jatras che non sta vivendo la sua miglior giornata Fa bene Brignoli, può servire Bugeia nello spazio Occhio al sinistro, infatti rientra Bugeia Rinvio del portiere del Sassuolo Sembrava un rinvio bruttino, invece innesca Bugeia Velocissima, Bugeia è partita, salta la prima Bugeia, rinvio serve infatti Dubkova L'idea per Bugeia, il controllo di Bugeia Di Guglielmo decisiva ancora, calcio d'angolo Sassuolo Almeno in tre situazioni di Guglielmo ci ha messo Ha vista Dubkova? La serve Dubkova Bugeia, controllo, apparecchia per il sinistro Scorre, scatta, calcia Miracolo di Capelletti Se la cava il Sassuolo, addirittura la palla è sua Bugeia, primo controllo Subito orientato molto bene Si ferma Bugeia, aspetta rinforzi Chiude però Lempoli senza far far Occhio a Bugeia che in campo aperto può essere devastante Bugeia All'indietro Miyashi, ancora Bugeia Cerca e trova il... Prova a mettere il cross, controllo Tutt'altro che buono da parte delle giocatrici dell'Empoli Si scatena un contropiede che può essere letale La velocità di Ale Bugeia Sposta la palla, va sul sinistro Chiama uno scatto Finta di Cambiaghi Filtienze si perde Questo primo minuto di recupero il Sassuolo Bugeia sfogge ancora via Campo aperto è veramente devastante Alto intervento difensivo Miyashi che scatena Bugeia Bugeia zona tiro Scucchiaia per Dubkova Sponda per Cambiaghi Cambiaghi stop e idea a sinistra Bugeia, controllo buono Ultimazione della partita Bugeia in aria Mette il cross fuori per Cambiaghi Che cicca palla Che diventa buona Per il 3-0 di Monte Rubiano E festa grande per il Sassuolo Al novantaquattresimo La chiude Monte Rubiano Triplice fischio Tre gol del Sassuolo Partita perfetta Per la formazione di Piovani La stagione mi sento di dire Cade nettamente Per il Sassuolo Grazie.